Se nel tuo mondo sei accorto di questo materiale super importante mi raccomando segui il video fino alla fine Salve ragazzi io sono Alessio TV bentornati in questo nuovissimo video In questo video appunto andremo a vedere come fare una utilissima e soprattutto super performante farm di ferro L'ho tra l'altro fatto anche nel mio mondo Vi lascio l'ultimo episodio della serie Vanilla nella I qua in alto che è in questa direzione qua Vi ricordo di iscrivervi se non avete ancora fatto perché è una roba super importante Stiamo cercando di arrivare ai 3000 iscritti E adesso andiamo subitissimo a vedere come costruire questa stupenda farm Allora in realtà vi dico che di base è veramente molto molto semplice Allora prima cosa dobbiamo scavare per terra Adesso vi faccio vedere Iniziamo scavando un 3x3 in questo modo Adesso ci spostiamo di due blocchi in questa direzione Mettiamo una cassa qua con uno per dietro E poi andiamo a scavare ancora di due tutto attorno Vedete quindi due deve essere il totale Scusate mi vedete di qua due, di qua due, di qua due e di qua due Adesso andiamo a mettere uno In realtà vabbè un cartello comunque qua sopra all'hopper Posizioniamoci al centro e mettiamo un cartello qua con davanti un altro cartello Stessa roba per tutti gli altri lati in questo modo qua Vedete? La questione dall'alto sarà una roba di questo tipo Adesso andiamo a mettere l'acqua nei quattro rispettivi angoli In questo modo e un secchio di lava sopra al cartello Mi raccomando state tranquilli non brucerà Andiamo adesso a prendere della terra ma comunque possiamo utilizzare un qualunque blocco Io vi consiglio la terra per principalmente comodità Andiamo come potete vedere ad alzarci di un blocco da questo lato O comunque insomma dal lato che volete Io lo faccio in questo perché mi piace di più Adesso andiamo ad alzarci in questo modo Qua davanti quindi tre blocchi rispettivamente di fianco andiamo a scavare Ci mettiamo dei barili Sopra i barili ci mettiamo dei bottoni E in questo punto qua in questo modo andiamo a metterci tre letti Vedete? Proprio davanti appunto ai barili Adesso ci alziamo ancora in questo modo Ci spostiamo ancora di due blocchi così Ancora uno che poi andiamo a chiudere Perfetto adesso mettiamo le slab in questo punto qua Con sopra dei rispettivi bottoni pure qua Esatto proprio così Adesso qua andiamo a chiudere molto semplicemente Andiamo a metterci qua all'interno tre villager Vedete che prenderanno praticamente subito il lavoro Adesso andiamo a mettere una barca qua al centro mi raccomando Ci saliamo sopra e ci spingiamo il più in fondo possibile Una volta che usciamo dalla barca dobbiamo praticamente arrivare qua dove ci sono i letti Quindi magari per comodità prima mettete la barca Così poi potrete bam rompere E non rischiare che i villager se ne vadano Adesso prendiamo una pala e facciamo così Vedete? Dobbiamo solcare il terreno in questo modo Col tasto se siete da mouse con il tasto destro Ci dobbiamo spostare di due in questa direzione qua Quindi di due davanti Di sette per ogni lato Vedete? Proprio così Adesso vado leggermente a chiudere per farvi un attimo capire Perfetto E da cinque dietro alla farm Adesso non ci resta altro che andare praticamente a rifare tutto questo terreno qua in questo modo Quindi per intenderci dall'altra parte andiamo a contare sempre comunque sette Perfetto E una volta che avrete finito dovremmo farlo anche qua sopra Proprio in questo modo qua Tadà! E la farm in realtà è finita Non dobbiamo fare nient'altro se non andare a metterci uno zombie Quindi andiamo a prenderlo Tolgo la pacifica che l'avevo messa per comodità Tac Adesso guardate ci mettiamo uno zombie qua Lui finirà all'interno Gli mettiamo anche una name tag giusto per comodità Mettiamola così in modo da evitare che possa despawnare Io comunque nella mia serie non l'ho messa e non è ancora despawnato Poi nel caso ne portate un'altra Non è un grandissimo problema E se vi stiate chiedendo come farlo in survival Molto semplice aprite un buco qua Aspettate la notte Trasportate uno zombie Vi mettete da questo lato e lui ci entrerà automaticamente Ovviamente la farm funziona meglio di notte Guardate metto notte un attimo e vi faccio capire Eccolo qua ragazzuoli Il primissimo golem Come potete vedere molto easy Penso di essere stato qua forse esagerando 30 secondi E dai 30 secondi forse ci sono stato Vediamo subitissimo quanto ferro ci dà Dovrebbe darci ne tipo 4 o 3 Ecco in questa cosa ce ne date 3 Come potete vedere super 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 semplice Veramente una cavolata Questa farm è veramente di una facilità disarmante Guardatene appena spawnato un altro E ovviamente tutti la potete fare Perché richiede veramente pochissimi materiali L'unica cosa che richiede È un po' una rottura di scatole Nell'andare a prendere i villageri Ma per il resto Veramente è semplicissimo In questo caso ce ne date addirittura 5 Quindi ragazzuoli io spero che questa farm vi sia stata utile Ovviamente iscrivetevi se non l'avete ancora fatto Perché stiamo come vi ho già detto prima Cercando di arrivare ai 3.000 iscritti Ci mettete letteralmente 5 minuti a farla Se avete problemi iscrivetevi qua sotto nei commenti E vi risponderò sicuramente Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo video